ciao a tutti oggi vi faccio vedere come fare una scritta per fare con gli strass ora apriamo il programma poi clicchiamo sul marchio silhouette apre la pagina andiamo sul nostro account e ci troviamo in questa pagina clicchiamo su add download card questo e qui dobbiamo inserire il codice che abbiamo trovato dietro la nostra card che era fornita con il materiale una volta digitato il codice dobbiamo cliccare su applicare qui diamo ok e ora ci scaricherà tutti i nostri design che erano gratuiti che sono gratuiti con la card adesso qui dice che sono tanti file quindi ci metterà un pochettino io mando avanti ecco ora finito e se andiamo a trovare i nostri file vedete questi sono tutti quelli che mi ha scaricato ora andiamo nella nostra biblioteca tal di qua e ci creiamo una cartella andiamo su nuova cartella clicchiamo rinominiamo strass andiamo in mostra tutti i design andiamo a cercarci quelli che ci siamo scaricati e li selezioniamo tutti in modo che poi io li trefino nella cartella bene ora vado nella mia cartella e controlliamo se ci sono tutti ecco qua questi sono gli strass e i design che mi sono scaricata con la card bene ora invece vi faccio vedere come crearceli da soli i nostri file allora io ho il il software completo quindi c'è anche quello l'opzione per fare le scritte per gli strass non mi ricordo se nell'opzione base comunque avete già le lettere non ha molta importanza io questo ve lo faccio vedere perché me lo voglio creare da solo allora mi scrivo la parola e vado su quest'icona qua ci clicco mi apre questa finestra e metto i miei settaggi quindi clicco su riempimento lineare e già vedete che mette tutti quei tondini che verranno poi ritagliati in modo che quando mettiamo gli strass ma in ogni buco va uno strass io ho messo l'opzione 6 per avere più punti di riferimento in modo che la scritta viene più leggibile ok ora andiamo sull'impostazione taglio e ci cerchiamo nella finestrella sono sposto un attimo e ecco ora vi voglio far vedere invece un altro modo per scrivere testo manualmente sempre per mettere poi gli strass clicco su quest'icona mi si apre la solita finestra ora clicco su mano libera e inizio a scrivere il mio testo ci vuole pazienza perché non sempre al primo colpo viene scritto bene vedete io ci riprovo poi se in ogni caso qui mi viene un pallino sopra l'altro non faccio altro che prendere la freccetta per spostare e me lo aggiusto come più piace e continuo scrivere ecco sto finendo di scrivere ho mandato un po avanti il video perché altrimenti sarebbe troppo lungo ora mi guardo bene se è tutto a posto con l'opzione della freccetta me le aggiusto controllo l'impostazione taglio che sia tutto a posto e mi cerco il settaggio per gli strass da questo minuto indina eccolo qua poi vedete sotto ci è questa poi sotto mi da la lama come al solito la velocità e lo spessore fatto questo dobbiamo dare l'invio alla silhouette per tagliare però prima di fare questo ci spostiamo nella nell'altra area lavoro e vi faccio vedere per il seguito eccoci qua ora prima di farvi vedere il kit vi faccio vedere dove farò la scritta io ho deciso di fare un album fotografico con la copertina di stoffa ed è questa che è in lino bianco e sopra gli applicherò la scritta in strass my book quello che abbiamo visto prima nel software ora guardiamo cosa contiene il kit questa è la scatola degli strass apriamo dentro vi troviamo allora questa è la card dove prima vi ho insegnato a scaricare i disegni che corrispondono poi a quelli che dovremmo fare per gli strass ah scusate qui c'è il codice da inserire questa è la spatolina che servirà per aggiustare gli strass in modo che entrano tutti perfettamente nel disegno che abbiamo creato questo invece è un cd dove c'è qualche idea e vi insegna come fare ma in inglese poi abbiamo i cartoncini questi due trasparenti che ci servirà a prelevare la scritta diciamo di strass per poi dopo metterlo sopra alla stoffa e passare con il ferro ma poi vi farò vedere mentre questi sono due fogli sembra quasi velluto però questo servono serve per fare il disegno cioè lo mettiamo nella silhouette taglierà il disegno diciamo poi vi spiego meglio vedete meglio quando lo facciamo e poi c'è questo libricino che vi dà qualche idea e anche qui vi dà qualche suggerimento come fare se non sapete come posizionare e poi ci sono questi tre sacchettini di strass di cui uno è fucsia neri e bianchi e bianchi adesso qui riuscite a vedere poco perché il colore non me lo dà non so perché comunque sono i fucsia poi sono belli bene ora passiamo al disegno sul chiamiamo tappetino nero accendiamo la silhouette poi prendiamo il nostro tappeto nero questo sarà quello che ci serve per il disegno vedete e spostiamo la guida nel ah scusate questo non ha bisogno di tappeto perché è già di per sé duro con il tappetino che abbiamo di plastica ha detto spostiamo la guida nelle scanellature prima le blocchiamo mi raccomando per bloccare e sbloccare la guida diciamo la per fissare diciamo il nostro rullo ecco questo si apre e si abbassa ora mi raccomando bene allineato con il segno che troviamo sulla silhouette sulla nostra sinistra mi raccomando e portiamo dentro facciamo enter per fissare anche diciamo questo tappetino questo foglio alla silhouette poi prima di tagliare dobbiamo anche settare la lama in modo giusto che va proprio per questo per questo disegno vedete la lama la dobbiamo portare a 4 si vede no scusate a 6 la mettiamo nella nostra scontura per spostarla e fatto questo diamo unghio alla silhouette per iniziare il disegno ora la macchina taglia ha finito e spingo enter per togliere ora per non usare tutto per non aprire tutto l'adesivo taglio il pezzo che mi serve dove c'è la scritta ora togliamo questo togliamo l'adesivo piano ora prendiamo il cartoncino quello che abbiamo visto all'inizio me lo posiziono bene lo attacco poi prendo gli strass e li metto sopra sopra alla scritta vediamo se riesco a farvelo vedere bene ok li metto tutti poi con questa spatolina che vi dicevo prima faccio movimenti circolari per farli aderire ai buchi che abbiamo fatto con la silhouette per simulare lo strass vedete piano piano ecco fatto poi se qualcuno non non è inserito lo prendiamo con una pincettina però generalmente dovrebbero andare tutti al posto vedete ecco qua questa è la scritta ora prendiamo questo foglio che vi ho detto che serve per prelevare la scritta di strass taglio anche questo un pezzetto il pezzetto che mi serve per non sprecarlo tutto ora torgo la pellicola protettiva quella che serve per l'adesivo poi mi posiziono l'adesivo su tutto il pezzo striscio striscio bene per far sì che vengono tutti che gli strassi attaccano tutti all'adesivo ok vedete ora ora questo lo devo mettere sulla mia stoffa ecco qua la mia stoffa prendo il disegno lo posiziono dove mi serve striscio bene per fare aderire tutti gli strass e tutta la pellicola adesiva ora con un ferro caldo dobbiamo mettere una pezzetta sopra e per qualche minuto io ho tenuto quasi un minuto per fare aderire bene per far attaccare gli strass alla stoffa quindi cosa facciamo prendiamo il ferro riscaldiamo il ferro io ora ho messo questa sopra come pezzetta perché tanto non ne ho altre ma è grande questo pezzo di stoffa e lo posso fare ma voi mettete una pezzetta di cotone poi il ferro e lasciate sopra gli strass per un pochettino poi vedete voi vedete se si staccano gli ripassate ma devono essere tutti attaccati bene alla stoffa perché questi strass hanno un adesivo che col calore si scioglie ora vediamo ecco qua la nostra scritta con questo abbiamo finito spero di essere stata chiara scusate per il video se è venuto un po' così così però l'avevo già fatto 4-5 volte quindi non ne avevo proprio più voglia e spero di fare meglio i prossimi per qualsiasi informazione e chiarimento iscrivetevi e alla prossima ciao ciao ciao